Buone notizie, si concretizza finalmente ciò che avevamo annunciato qualche settimana scorsa, è stata giudicata la gara per l'elettrificazione, sono stati giudicati i due lavori sulla Mezzia Catanzaro e sulla Sibari Crotone, un progetto che parte da lontano, che purtroppo era bloccato, siamo riusciti a farlo sbloccare, siamo riusciti a farlo approvare, oggi finalmente è stata aggiudicata la gara per iniziare i lavori dell'elettrificazione, da non confondere con i lavori strutturali che si dovranno realizzare sulla rete, che sono due cose distinte e separate, perché purtroppo in questo periodo si sta facendo un po' di confusione, però finalmente un risultato molto importante, se poi pensiamo che è stato settimana scorsa inaugurato il treno ibrido che dovrà fare Reggio Calabria-Taranto, penso di poter dire che questo territorio finalmente potrà iniziare a uscire dall'isolamento, l'elettrificazione, i treni ibridi, dal 2026 sicuramente inizieremo a essere più competitivi. Grande soddisfazione per il lavoro che si sta facendo in collaborazione con Rete Ferrovia Italiana.